ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su planet crafter un gioco che è uscito il 22 di marzo 2022 che costa 17 euro e 99 e che resterà in early access per uno o due anni quindi se ne potrebbe parlare per un periodo diciamo in 1.0 tra la metà del 2023 e il 2024 è un gioco basato sulla terraformazione nel senso che lo andremo a vedere ricorderà molto osiris e new dawn subnautica per alcune animazioni magari potrebbe ricordare anche altri giochi di sopravvivienza planetaria ma non vedremo in questo gioco nessuna forma di violenza nessun nemico il gioco appunto è in early access quindi verranno giunte nuove cose il gioco ha una valutazione estremamente positiva su steam è una grafica molto carina ed essendo basato sulla terraformazione vedremo cambiare questo ambiente io lo definirei quasi marziano in un ambiente più lussereggiante quindi se vedrete degli screen su steam vedrete un pianeta terraformato diventare col cielo azzurro quindi con la presenza di ossigeno nell'atmosfera e con un ambiente più verdeggiante invece a terra è molto interessante il fatto che comunque mentre ero qui che progettavo varie cose ha iniziato sono iniziato a cadere dei meteoriti un evento è partito che cadendo a terra dava nuovi materiali al terreno ma rischiava anche di colpire la mia la mia base molto interessante il fatto di poter piazzare questi monitor che ci mostrano il progresso della nostra terraformazione nonché anche la il conto dell'energia prodotta e la progressione e ora vi spiegherò quello che ho capito perché non mi è proprio chiarissimo il fulcro di questo gioco nel senso che noi abbiamo questi scavatori che creano pressione quindi scavano il terreno insomma e creano pressione contribuiscono alla creazione della pressione queste paleoliche che poi più avanti andremo a evolvere in magari in pannelli solari poi abbiamo questo fornetto qui che genera calore quindi calore heat e questo che genera ossigeno queste sono di base le componenti in grado di terraformare il pianeta infatti qua vedete l'ossigeno il calore la pressione e appunto il complesso in terraformazione nel pannello della ricerca che è questo vedete che c'è terraformazione ossigeno calore e pressione e man mano questo sale sblocchiamo nuove cose ad esempio a terraformazione 1000 quindi tra pochissimo sbloccheremo i pannelli solari che andremo a fare andando avanti a 2005 sbloccheremo il backpack di livello 3 e quindi andremo ad equipaggiarlo infatti col tasto tab vedete che c'è il nostro inventario che è determinato anche dal backpack che mettiamo l'esoscheletro che ho montato mi consente di avere questa seconda barra qui e per il resto sono funzionalità vabbè l'ossigeno tank di ossigeno qua sotto qua c'è la sete e la fame new blueprint ok infatti abbiamo sbloccato i pannelli adesso vedete come vi avevo pronosticato e sta salendo tutto molto lentamente infatti l'obiettivo iniziale era di craftare queste cose le ho fatte e l'obiettivo ora resta di raggiungere 175.000 ti che sono i punti di terraformazione siamo a mille siamo uno di 175 insomma ci vorrà un bel po' ma la cosa che io non capisco come questo fornetto qui messo all'interno di questo ambiente che andrebbe poi magari messo anche all'esterno possa contribuire a terraformare un intero pianeta così come una pianta messa all'interno di questo contenitore possa fare quello che fa vabbè abbiamo sbloccato i pannelli solari quindi la prima cosa che facciamo andiamo col tasto q vedete qua abbiamo il crafting che possiamo fare noi personalmente invece a questo tavolo abbiamo un altro tipo di crafting che quello più diciamo personale andiamo a creare magari un supporto prendendo dell'iron e il looting delle risorse riguarda camminare per questo pianeta andando in un ambiente che comunque è sempre quello di là ci si trova il silicon a quanto ho visto questo è il magnesium questo è il fer il silicon scusate io li prendo vedete si si scavano così questo il titanium ognuno occupa uno nell'inventario dobbiamo fare attenzione all'ossigeno mentre siamo in giro poi è una cosa che con lunghissimo periodo quando avremo terraformato il pianeta non avevamo più bisogno però il gioco è basato essenzialmente su un'esperienza single player dove noi vaghiamo recuperiamo risorse craftiamo e l'unica cosa diciamo di difficoltà è la fame la sete l'ossigeno ed eventualmente gli eventi ambientali io ora vi dico ho trovato ferro come se non ci fosse un domani e ora che mi serve non lo trovo più ma questa è la classica legge di marfi dei survival silicon iron eccolo qua molto simile a questo però il gioco ha appunto recensioni estremamente positive io sono un po perplesso per questa meccanica qui poi in realtà il gioco dovrebbe già essere ampiamente giocabile anche adesso che è appena uscito verranno aggiunte nuove cose verranno aggiunte anche componenti di micro vita quindi esseri viventi intesi come piccole forme di vita insomma quindi oxygen low io l'oxygen capsule me la prendo la posso poi craftare e l'unica mancanza che ho adesso è la generazione di cibo un'altra cosa degna di nota è il fatto che in caso di morte noi lasciamo alcuni oggetti a terra sotto forma di cassa come quella che vedete lì ma quella è una cassa di di loot e di gioco iniziale che ce ne sono alcune sparse in giro così come anche la in alto un relitto che non nasconde nulla vedete qua ci sono materiali all'interno potete prenderli e va bene il bello che c'è proprio una base che poi andrà via via sempre a completarsi non sono tantissimi pezzi però se guardate anche gli screen su steam non sono male adesso voglio fare questa voglio farla però un po più in alto questa perché poi tutto interconnesso e andare a piazzare i pannelli solari mi serve cobalto cobalto silicon e iron quindi cobalto cobalto vediamo se c'è del cobalto lì ogni tanto poi partono anche delle tempeste di sabbia che tecnicamente dovrebbero abbassare la cobalto 1 dovrebbero abbassare l'efficienza di pannelli comunque adesso noi prendiamo un po di cobalto un po di iron prendiamo un po un po di tutto e vediamo magnesium forse anche serviva vabbè questo è il allora iron silicon cobalto cobalto no niente quello lì è il titanium allora andiamo e facciamo i pannelli così aumentiamo eventualmente la nostra potenza energia energetica abbiamo due luoghi all'inizio cioè questo che ho creato che voi potete espandere e la c'è la base di partenza ok abbiamo rifullato il l'ossigeno e quindi procediamo con l'installazione dei pannelli solari che andiamo a piazzare in questo modo con questa evoluzione alla subnautica alla fine ci mancano due di cobalto ne abbiamo forse uno solo no neanche quello quindi andiamo prendere ne mettiamo due e poi andiamo a vedere com'è cambiato questo video deve essere un'analisi di un gioco che c'è qualcosa che non mi convince perché il gioco sarebbe anche l'ho iniziato detto lo provo poi ci faccio il video ci ho giocato un po un bel po e non è male poi potete ruotare vedete adesso mettiamo due magari opposti in modo che se viene tenuto conto ma non credo e poi potete anche piazzare esempio l'evoluzione di questa stanza metterla qui e quindi poi la vedrete all'interno per se volete renderla più bella li create queste fondamenta sotto adesso vedete che la stanza è stata fatta così un po a s a chicane però poi magari spando anche qui sposto i tavoli perché poi avendo ricercato questo pannello qui il microchip deconstruction con la rotellina del mouse posso usare la torcia che non ho o la decostruzione quindi recuperando gli interi gli interi materiali per la costruzione la cosa che vorrei fare adesso è dato che il valore di salita dell'oxigen è un po basso vedete che un po 0 15 al minuto mentre invece la pressione 0 60 0 30 il calore voglio fare un altro di quelli lino quindi voglio fare questo il veggie tube ne faccio un altro all'interno devo metterci uno di questi quindi più avanti poi potremmo anche creare delle serre per piantare i semi e quindi andare a eh no mannaggia a crearci il cibo non abbiamo quella capsulina di da mettere qua all'interno vedete che qua è vuoto quindi al momento non sta producendo nulla comunque diamo un'occhiata alla produzione energetica produzione 19 prima eravamo 6 quindi diciamo che per l'energia siamo a posto per un po anche la produzione del calore la produzione del calore è un po più difficile perché ci serve l'iridium e l'iridium è un po un po difficile da trovare si trova nelle grotte ho visto quindi niente facciamo un oxygen capsule quella la facciamo con il cobalto perché adesso io voglio andare a esplorare un pochino vedere se trovo insieme sicuramente l'ho già trovato da qualche parte ma l'ho lasciato lì probabilmente perché non mi serviva dentro c'è del cobalto io lo prendo perché l'idea sarebbe quella di andare un pochino a esplorare e eccola c'è un'altra cassa sto andando nella direzione in cui non volevo andare perché li si va verso l'elitto warning idratation level potete craftare l'acqua usando il ghiaccio che trovate in giro ma il cibo non ancora qua abbiamo all'interno vedete space food lo prendo ok vediamo un po quanti ne ho 4 dispari quindi me ne prendo uno ancora mi prendo anche uno di cibo a me lo deposito in base e basta credo non no mi prendo anche del ghiaccio perché non si sa mai che mi mi vado a cartare in base il un po d'acqua ok musica molto carina graficamente un livello diciamo medio base insomma si vede un indie niente di fotorealistico per dire subnautica è un po più bello un po più definito subnautica below zero tra l'altro uno dei giochi che dovrei prima o poi a ricominciare e finire facciamo la water battle che me la bevo subito iniziamo subito il crafting delle bombole di ossigeno ok abbiamo un po di bombole e ora possiamo andare alla ricerca nella silicon valley del seme che ci manca per aumentare la produzione per lo meno di ossigeno qui non credo ci sia nulla infatti proseguiamo stiamo usando la corsa se no gioco camminerebbe normalmente questo è ferro si poi vabbè il gioco in una e non ha l'italiano al momento è in inglese non c'è nulla di che perché l'unica è il all'interno della capsula con cui siamo arrivati ci sono c'è una mail da leggere ti abbiamo mandato lì a terraformare fine il gioco poi finisce lì cioè del potenziale c'è sicuramente perché non è grezzo gioco si muove bene tecnicamente mi sembra che ben fatto eccolo qua l'ho trovato subito vedete qua ci sono dei semi di melanzane volendo si può procedere se possiamo anche farlo dato che prendo del titanium che non ne ho trovato molto dovrebbe esserci una grotta qua più avanti credo è io da quello che ho visto ci sono le coordinate in basso a sinistra infatti sulla wiki potete andare a cercarvi il la location a livello di coordinate di vari posti che pensare magari di fare una base anche qui la base in automatico quando la costruite vi ridà ossigeno quindi tecnicamente potrebbe essere un espluaggio io vado a piazzare una base ma adesso non me la fa piazzare da tutta vista così però vabbè dobbiamo piazzare anche una porta mi manca il silicon quindi prendo il silicio no questo è magnesio intanto vediamo se troviamo sotto silicio iron silicon eccolo qui intanto io mi prendo una bombola la bombola ricarica in ogni caso al sempre al cento per cento quindi io ho evoluto la mia capacità di tuta al massimo e me la ricarica comunque in ogni caso al massimo questa è vedete abbiamo ricevuto un vegetube t2 perché abbiamo fatto la ricerca cioè siamo andati avanti abbiamo raggiunto il massimale della per il secondo step e qua mi chiede ghiaccio 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 no iron ghiaccio ghiaccio magnesio silicon entrando qui mi rifullo l'ossigeno che anche questa è una cosa che mi fa storcere il naso perché questa qui chi la alimenta da dove prende l'ossigeno secondo me sono tutte mancanze che possono essere giustificate solo dal fatto che sono siamo in early access se no no e quindi è quello che mi fa un po' storcere il naso il gioco piace ed è giusto che piaccia perché comunque è fatto bene si vede che comunque è ottimizzato bene non gira male ho visto cose molto più grezze di queste adesso voglio fare mi manca uno di ice vediamo quanto ho nell'inventario che c'è ancora spazio l'ice l'abbiamo trovato qua ok e adesso faremo il secondo questo cos'è sono dei pannelli vediamo se posso decostruirle si e recupero materiali interessante c'è una cassa la in fondo quindi voglio dare subito a vedere che cosa cosa c'è all'interno non posso distruggerla perché è piena la crete ma non posso nemmeno abbassarmi per vedere che cosa c'è dentro mannaggia non posso decostruire questa roba questa struttura inventory fu ok aspetta butta questo decostruisci questo no butta anche questo butto tutte le cose che non mi ipoteticamente non mi servono prendo un'altra bombola d'ossigeno così libero il terzo spazio e no non me lo fa fare niente dai me lo tengo lì per sorpresa qualcos'è c'è dell'altro qui una cassa magari trovo del sì ne ho trovato altre due fantastico e un blueprint e module alluminio interessante adesso aspettate che butto le cose più più basilari che si trovano più spesso che l'alluminio mi serve e faccio un'altra cassa un altro blueprint direi che sono abbastanza soddisfatto del del risultato quindi adesso me ne torno verso il mio explore qua bisogna andare avanti esplorare ma non me la sento al momento voglio tornare indietro e provare a potenziare la creazione di ossigeno in modo da aumentare le ricerche intanto stiamo salendo adesso vedremo anche l'evoluzione anche qua potrebbe diventare una base in pianta stabile creando magari un'altra un'altra fonte di energia tipo un altro un altro eolico un altro pannello solare alimentiamo anche quella base lì perché credo che ogni base sia vincolata a se stessa come energia però ecco l'avrei fatto un pochino più estrema come cosa però ripeto è sempre un early access quindi i miei dubbi iniziano e finiscono sempre nell'ambito di è un uscito da nove giorni che sta avendo delle ottime recensioni questo è una cosa che va sempre piacere ma che potrebbe fuorviare perché dipende anche cosa state cercando se cercate uno series new dawn quindi una cosa che questo è molto simile ma con una gestione della sopravvivenza dell'ossigeno delle camere stagne appunto degli airlock più precisa più realistica con anche dei nemici delle minacce ambientali ecco non è il gioco che fa per voi perché di qui ci sono solo le minacce ambientali adesso possiamo fare il t2 il t2 potrei sostituire anche l'altro facendo un t1 vediamo se possiamo eliminare va bene adesso facciamo il t2 adesso ci farà fare solo t2 t1 t2 lo metto qui ok vediamo la generazione dell'energia 19 ok questo adesso diamo un'occhiata la generazione dell'ossigeno ce ne fa 0 15 quindi io adesso piazzo questo all'interno vedete che ognuno 300 per cento di generazione e 150 quindi io metto questo no ho sbagliato metto questo di 300 e da 0 15 passiamo a 3 75 cioè a voglia il vegetube questo me lo demolisco perché ne voglio fare di t2 serve dell'ice ancora mi prendere dell'ice ne prendo due perché voglio magnesio manca sempre silicon anche preso non ho preso ok ice ice magnesium manca sempre il silicon ok per dover aumentare anche questi comunque andiamo crea il t2 e dentro ci mettiamo questo che è un 150 poi dovrei cambiare anche questo con un t1 comunque in pratica qua nell'elenco delle delle cose scoperte oxygen 12 chiede più energia però ottimo quando raggiungeremo i 2000 di di no di ossigeno adesso sta salendo tantissimo quando raggiungiamo i mille prendiamo la scala interna che non ci serve a niente però 1850 all'iter è quello che scalda di t2 molto bene l'energia invece a 2005 quindi non manca neanche tantissimo di terraformazione totale ci dà il backpack di livello 3 la pressione invece non la stiamo toccando al momento ma a 1200 ci dà la trivella di livello 2 quindi tanto vale aspettare non abbiamo più nulla no abbiamo questo sid qui che non fa nulla di che vediamo se metto un tier 1 giusto così per per usarlo mentre l'energia ne consumiamo pochissima qui invece abbiamo questi che sono possiamo decodificare un microchip praticamente abbiamo decodificato abbiamo potenziato la ricerca infatti ci si è sbloccata qua il compass quindi la bussola la mining speed non l'avevo ancora presa abbiamo preso il backpack t3 cioè ce l'ha già sbloccato in anticipo qui infatti in 2004 e qua il solar panel a 17500 quindi tra un bel po poi non so se questo 175 mila di terraformazione sia la fine di questo gioco della versione di questo gioco intanto abbiamo sbloccato anche l'indur ladder e la living compartment la finestra quindi prendiamo un iron se ce l'abbiamo in giro no e vediamo se di fare la finestra in modo da renderlo un po più un po più bella da vedere la casa vediamo se ho messo del dell'iron qua no come so oxygen capsule che prendo mi serve dell'acqua quindi dicevo mi serve dell'iron e possibilmente del ghiaccio perché dobbiamo craftare anche la bombola la bottiglia d'acqua se infatti ci sta dando l'avviso mamma mia silicon lo cerchi non lo trovi mai quando cerchi il ferro trovi solo il silicon secondo me hanno qualche script nei giochi vedono che ricetta stai guardando e ti fanno trovare l'opposto allora posso demolirla sta cosa no sarebbe stato comodo recuperare qualche metallo così vabbè andiamo andiamo all'interno facciamo una bottiglia d'acqua che uso subito così bevo e vediamo la finestra la facciamo magari non so qua facciamo qui con la vista molto bello così eh cioè graficamente non gli manca niente coloratissimo è bello un po squadrato per alcune cose tipo il trucco abbiamo in mano non è male è da chiarire un pochino in che direzione vuole andare perché questa mi sembra una cosa sto producendo tutto all'interno qui ma ora che che terraforma il pianeta dovrei fare delle farm ed è quello che dovrei in realtà fare quindi andare piazzare magari una scala fare le foundation altissime mettere un sacco di sti cosi qui però io adesso i drill titanium e iron dovrei andare piazzarli comunque stiamo andando bene l'oxygen produce tantissimo 5 ok il calore è poco ma mi serve appunto per farlo come vi ho detto l'iridium quindi dovrei fare una spedizione che va a scoprirla eh la pressure va abbastanza bene calcolando che ho tre tre livelle e siamo a 60 eh tre tre livelle fa praticamente 0,20 l'una però abbiamo scoperto la tre livella t2 infatti stavo pensando proprio quella quindi due iron e eh e un titanium anche litre di livello 2 litre serve un 2 di eridium ciao alluminio che abbiamo recuperato prima ma magari poi potremmo anche diciamo revisionare i materiali magari trasformarli però iron titanium titanium 2 iron 1 e titanium 2 titanium è quel metallo un po buboso come questo che stranamente adesso io sto trovando come se non ci fossero domani molto bene molto bene prendo l'altro iron che non si sa mai prendo altro iron va bene allora adesso facciamo il secondo quindi abbiamo detto 0,20 a più o meno a ogni trivella per aumentare la pressione quindi toglie gas tipo dalla dal sottosuolo piazzo la seconda qui e vediamo di quanto aumentato da 0,60 a 2,10 e direi che potrebbe anche essere il caso calcolando che titanium iron quindi io adesso demolisco questo e ne produco un altro no titanium no demolisco anche questo e ne metto un altro vediamo se siamo andati è 3,20 direi di sì demolisco anche questo 3,20 andremo probabilmente a tare adesso con con due soltanto infatti è sceso adesso riesco a farlo secondo no mi serve un titanium e vedete poi una un crafting ti era l'altro questa sarà nelle mie massime però almeno portiamo avanti un po un po l'evoluzione ed è così il gioco è così cioè 17 euro e 99 il gioco gira bene niente da dire è bello bello fluido tecnicamente non ha si salta bene sulle rocce insomma voglio dire non ci si compeneta è ottimizzato bene fa quello che deve fare e ha già dei buoni contenuti perché comunque tante cose da sbloccare ci sono quindi niente da dire su quello però boh non lo so sono un po perplesso ecco adesso è andato via si è spento tutto perché perché l'energia cacchio consumano un sacco quei cosi lì eccolo lì il difetto quindi o facciamo un eolico o facciamo un pannello solare cobalto 2 direi che facciamo un pannello poi non ho visto io poi impazzisco per ste cose di batterie accumulatori scorte di energia cioè mi piacciono tantissimo quindi vediamo adesso facciamo un altro pannello perché dentro si è spento tutto quindi stiamo perdendo efficienza prendo anche se trovo un iron che faccio la doppia cosa faccio una un eolico e un pannello poi non penso non venga tenuto conto dove viene piazzato il pannello o l'eolico magari verrà smentito da qualcuno di voi che magari se l'ha spolpato infatti quindi oltre a voler farvi conoscere questo titolo mi piacerebbe anche confrontarmi con chi di voi magari lo ha giocato più di me e magari ha scoperto più cose o se la mia analisi è già più o meno giusta così adesso mannaggia me lo piazzo così vedete che ricomincia a funzionare adesso l'infingardo e piazziamo anche un eolico qua magari anche due eolico la cosa eolica le ho messa lì ma vediamo se possiamo metterne in alta ok un'altra lì un'altra ancora che ci stanno dai vai energia avevamo detto non avremmo avuto problemi per un bel po ma in realtà non è così prodotto è infatti non è che ci ha cambiato tanto la vita 29 cioè non producono tanto sti cosi comunque vabbè consumano un botto sti cosi quello vecchio consumava 0 5 questo 1 e 2 quindi consumano più del doppio comunque in pratica adesso abbiamo 450 di produzione pressione 5 70 l'ossigeno il calore ora il mio dubbio è questo io lascio il gioco aperto vado a dormire e finisco il gioco terraformo così domani mattina magari arrivo e trovo tutto verde c'è tutto verde trovo tutto cioè è questo c'è ok dovrei migliorare ma alla fine per cosa diciamo che abbiamo ancora tanto da scoprire ma non so andiamo avanti vediamo si c'è l'infusione nucleare il dt4 il biodome c'è tante cose da fare l'iter t3 abbiamo il pannello sola il doppio letto abbiamo vabbè sì l'atmospheric water collection cioè diventa interessante in fase avanzata dove possiamo fare il sì forse ecco questa è una cosa interessante perché l'avevo vista si potrà costruire un razzo poi per terraformare che andrà in alto e butterà tutti i semi e quindi vedremo il pianeta cambiare quindi da questo aspetto qui niente da dire assolutamente per il momento è tutta una cosa di cerca risorse produci aumenta la produzione bisognerà vedere come diventerà quando andremo a scoprire cose molto più avanzate sì sicuramente quello che mi farebbe andare avanti adesso è una cosa di questo tipo appunto il razzo che manda a 650 mt e 650 mila mt che adesso non so neanche dove siano perché sarà un altro parametro che andrà a inglobarsi quindi vi dico questo lo trovo rilassante il fatto che sia estremamente positivo penso sia un connubio tra il gioco ben ottimizzato che gira bene senza bar senza bar senza compenetrazioni bloccaggi cose che capitano spessissimo in giochi di questo tipo e l'atmosfera rilassante quindi niente violenza niente niente pistole niente solo una sopravvivenza ridotta al minimo con cibo acqua e ossigeno questo è planet crafter fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate e noi ci sentiamo a un prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao